Io sono Ruggero Ricci, cantautore e vocal coach. Questa lezione è dedicata a tutti i membri della cooperativa Easy Beersi e oggi parleremo di igiene vocale, un argomento di fuoco che riguarda cantanti emergenti e non. È un argomento importantissimo che riguarda il prenderci cura della nostra voce. Potremmo definire l'igiene vocale come il counseling terapeutico che rende autonomo il cantante nella gestione di tutte le criticità che interessano appunto la sua vita artistica. L'igiene vocale nasce dal lavoro di foniatri, vocal coach e logopedisti e si istituisce, diciamo così, attraverso alcune norme, alcuni pilastri che sono importantissimi. e voglio elencarli e spiegarli uno ad uno. Il primo pilastro su cui si regge l'igiene vocale è l'idratazione. Per idratazione non intendiamo solamente il bere i classici due litri e mezzo di acqua al giorno, bensì fare una garda imbevuta di acqua, prendere una garda, inalare appunto queste gozzoline che sentiremo scendere lungo la laringe e quella sarebbe un'idratazione interna. Oppure se abbiamo più tempo a disposizione, io consiglio sempre di fare in tutte le stagioni dell'anno un aerosol metà per naso, metà per bocca. E questo, diciamo, è tutto quello che riguarda l'aspetto idratazione. Secondo pilastro importantissimo è la differenza tra riposo vocale e silenzio vocale. Non dobbiamo mai trascurare questo aspetto per la salvaguarda del nostro strumento. Allora, il riposo vocale consiste nell'avere almeno otto ore di sonno alle spalle per consentire a tutti i nostri muscoli di rigenerarsi al 100%. Quindi se vogliamo avere una voce altamente performante ci servono tot di ore di riposo notturno, mi raccomando, e quindi non diurno, riposo notturno. Invece, il silenzio vocale noi lo possiamo applicare nel breve termine e nel lungo termine. Nel breve termine, se una settimana è fatta di sette giorni, è impensabile cantare sette giorni su sette. Dobbiamo osservare almeno quattro giorni alla settimana di riduzione dell'attività vocale. Più nel lungo termine, se un anno solare è fatto da 365 giorni, è chiaro che io non è che posso cantare 300 giorni, anche se dovesse avere la tecnica vocale perfetta dell'universo, il mio strumento a un certo punto mi lascerebbe a piedi. E questo è successo a tantissimi cantanti di successo, come Laura Pausini, Ligabù, Marco Mengò, e Alessandra Moroso hanno avuto qualche defiance durante i loro tour, perché appunto volevano fare troppe date ravvicinate tra loro senza osservare appunto il periodo di silenzio vocale prolungato. E dopo, attraverso appunto l'affiancamento dei loro vocal coach, sono riusciti a concludere egregiamente tutte le loro date in programma. Un altro aspetto che non dobbiamo trascurare mai è il controllo del peso corporeo. Questo è riferito a le modifiche drastiche di peso, cioè perdite drastiche di peso o acquisti repentini di peso. Non dobbiamo mai dimenticare che il nostro strumento voce è fortemente influenzato dalle nostre cavità di risonanza. Noi siamo uno strumento dalla testa ai piedi e quindi se io vado a cambiare, modificare la mia fisionomia vocale avrò delle modificazioni anche a livello sonoro. Le cavità di risonanza nel nostro caso sono le ossa che si trovano nella gabbia toracica per quanto riguarda la voce di petto e le ossa che si trovano nella scatola cranica per quanto riguarda il falsetto e la voce di testa. Per cui io sconsiglio quelle diete drastiche dove ci sono appunto delle modifiche importanti del nostro peso forma. Teniamolo sempre sotto controllo. E il quarto pilastro dell'igiene vocale è l'alimentazione. Che cos'è che non dovrebbe mai mancare nella dieta di un cantante? Beh, di certo proteine e vitamine. Le proteine perché favoriscono la tonificazione muscolare e ci garantiscono sempre l'elasticità di tutti i tessuti. Le vitamine invece svolgono un ruolo difensivo per il nostro sistema immunitario e non dimentichiamo che frutta e verdura contengono tanto acido ialuronico che è il gel che si trova su tutti i nostri tessuti muscolari. Quindi mai, mi raccomando, dobbiamo limitare appunto la presenza di proteine e vitamine. Ora vi spiegherò alcuni dei cibi e degli alimenti che possono causare dei problemi. Ovviamente voglio sottolineare nell'atto del canto, quindi io li sconsiglio prima dell'esibizione, quindi non dovete toglierli dalle vostre alimentazioni, ma semplicemente fare molta attenzione se li assumete prima di cantare. Allora, parto dai latticini. I latticini, e sto parlando proprio di formaggi, gelato, burro, latte, panna, queste cose qua, animali, rafforzano la produzione di muco e catarro. Anche se noi non dovessimo essere intolleranti, facciamo molta attenzione a non assumerli prima di cantare per non incorrere in questo problema. Facciamo anche molta attenzione alla temperatura dei liquidi che ingeriamo, perché bevande ghiacciate o bollenti assunte nell'immediato possono rappresentare uno shock per le nostre corde vocali e quindi compromettere appunto la qualità della nostra emissione canora. attenzione a tutto ciò che in generale ha le bollicine, quindi bibite gassate e alcolici di qualunque tipo, perché favoriscono il reflusso gastroesofageo, che è appunto il nemico numero uno di tutti coloro che utilizzano la voce. Se soffrite di reflusso gastroesofageo, dovete prima di tutto intervenire sull'acidità dei cibi che assumete nell'arco della settimana e quindi limitare ad esempio il consumo di agrumi, di caffè, di alcolici, le sigarette, sono tutte cose che fomentano appunto il reflusso che consiste nella risalita dei succhi gastrici oltre l'esofago, quindi arrivano oltre la trachea, faringe, laringe, se questi succhi gastrici arrivano a toccare le corde vocali, sia il succo che appunto il gas stesso hanno una funzione corrosiva e quindi causeranno lesioni e ferite di varia entità. Quindi il reflusso si può combattere, si può prevenire e si può curare, tenere a bada. Attenzione anche ai cibi piccanti, hanno un po' un doppio effetto, diciamo, se vogliamo, perché se io ad esempio sto bene, mi seccano un pochino, se invece io dovessi essere raffreddato, quindi ho quella sorta di raffreddore, quel muco in sospensione, mi danno l'effetto stura tutto, quindi i cibi piccanti possono avere anche una funzione benefica. Un alimento invece cui dobbiamo fare attenzione è il sale. In generale tutti i cibi salati in piccola quantità possono causare iper salivazione. In alta quantità possono seccarmi la mucosa e quindi togliermi appunto tutta la salivazione. ci sono due alimenti che io chiamo illusori perché ti illudono di scaldarti. Sono due alimenti che noi quotidianamente assumiamo tranquillamente, ma in realtà prima di cantare dovremmo evitarli del tutto. e sto parlando di menta e alcol. Questi due alimenti mi daranno la sensazione di privazione di quasi tutto il volume in emissione. Quindi non so se avete mai provato a mangiare una caramella balsamica e a bere dell'acqua, che cosa succede? Avvertirete quella sensazione di congelamento proprio interno. Quello è il vero effetto che la menta fa su di noi. Quindi tutto ciò che sono caramelle balsamiche, menta, eucalipto, chewing gum, eccetera, eccetera, assolutamente evitateli priva di cantare. Piuttosto io consiglio delle caramelle al miele e all'erisimo. La menta quindi ha questa funzione. L'alcol invece dà la finta impressione di scaldarti, ma ricordo a tutti che scaldare la voce non significa dare calore, significa fare stretching muscolare e quindi fare degli esercizi di allungamento e assottigliamento delle corde vocali. Quattro alimenti che legano invece le corde vocali sono cioccolato, caffè, liquirizia e in generale la frutta secca. Questi alimenti rimarranno depositati a lungo sul nostro cavo orale, nella laringe in generale, e quindi se io li assumo devo bere tanta acqua, lavare molto, perché io li sentirò presenti anche per ore. In generale voglio ricordarvi che l'andamento della voce nel corso del giorno segue il grafico della campana di Gauss, un grafico a campana, che mi va ad indicare che il minimo della voce lo abbiamo nelle prime ore del mattino, quindi tra le tre e le quattro di mattina, il minimo assoluto, quindi il momento dove assolutamente è sconsigliatissimo cantare. Se notate, poi durante il mattino noi abbiamo una voce che è molto più bassa del normale, questo perché durante la respirazione involontaria notturna le corde vocali si riempiono d'acqua e quindi abbiamo uno strumento che è più pesante da manovrare, più pesante da utilizzare. Poi nel corso della giornata, con il risveglio e l'utilizzo dello strumento, abbiamo un apice di utilizzo che sarebbe il primo pomeriggio, quindi quello sarebbe il momento più indicato di utilizzo della voce in assoluto, per poi vedere il grafico che ridiscende durante la notte. Per cui attenzione, soprattutto la mattina, ad evitare cibi troppo acidi, come ad esempio coloro che si fanno l'acqua e il limone, una bellissima abitudine che magari se ci dà vitamina C e sali minerali, dall'altra parte ricordiamoci che stiamo buttando dell'acido citrico su una corda vocale ipersensibile. Attenzione, quindi chi lo fa può essere che soffra anche di problemi di raucedine, quindi voceroca e abbassamenti durante il mattino. Un alimento invece che è molto molto benefico per le corde vocali è l'ananas. L'ananas assunta a crudo contiene una sostanza che si chiama bromelina, esistono anche degli integratori. Questa sostanza si trova nel gambo dell'ananas, quindi proprio alla base del frutto, è completamente naturale al 100% e i foniatri la somministrano in massicce quantità perché ha la proprietà di sgonfiare, sfiammare e rigenerare i tessuti delle corde vocali. Ci sono vari integratori che consiglio, se ci troviamo in un periodo di limitazione della nostra voce, dobbiamo rigenerare il nostro strumento, questo ad esempio lo possiamo trovare in farmacia, si chiama Bromex e per i dosaggi magari più importanti il Flogeril, che sono tutti e due integratori a base di bromelina ad alta concentrazione. Le tre vitamine che servono ai cantanti sono la vitamina A, che svolge un ruolo importante non solo per le corde vocali, ma per tutta la salute dell'apparato respiratorio, e la troviamo in patate, ducca, albicocche, cavolo verde, carote. Ci sono tantissimi cibi che contengono la vitamina A, poi abbiamo la vitamina C che non ha bisogno di presentazioni di certo, è quella che più di tutte ha un effetto detossicante e difensivo. La vitamina C io ad esempio consiglio di assumerla anche attraverso integratori masticabili come questo. Controllate sempre che ci sia scritto a lento rilascio, perché significa che è una vitamina C che è detox per il vostro organismo. Se voi fate la prova di scioglierla in un bicchiere con acqua e inchiostro, nel giro di 30 secondi il bicchiere diventerà completamente trasparente, per cui vi rendete conto della grandissima proprietà che ha la vitamina C a lento rilascio, svolge proprio sul nostro organismo. E la terza vitamina importantissima è la vitamina E, che troviamo in tutti quei semini che mettiamo sull'insalata, nella frutta secca e nell'olio d'oliva a crudo. L'avocado è ad esempio un frutto che è pieno di vitamina E e la vitamina E ci aiuta a migliorare l'attività cellulare dei polmoni, che sono fondamentali per un'attività vocale ottimale. Adesso voglio lasciarvi un compendio inerente a tutte le sostanze naturali per la cura e il mantenimento della voce, perché io mi sono reso conto, con tutti i miei allievi, mi arrivano ogni giorno messaggi dove mi chiedono ho questo problema, che cosa potrei assumere per risolverlo? Innanzitutto noi abbiamo tantissimi strumenti naturali che la natura ci mette a disposizione prima di arrivare al farmaco e oggi vi voglio presentare alcuni di questi prodotti. Innanzitutto per il recupero della voce, quindi perdo la voce completamente, che facciamo? Allora, abbiamo detto silenzio vocale e riposo vocale prolungati e poi facciamo la nostra garda. Volendo la potremmo fare o con acqua termale oppure con la camomilla romana, che è un ottimo lenitivo. La camomilla è contenuta spesso anche nel collirio, per cui ha questa proprietà estremamente lenitiva. E assumere della bromelina. Ok, ovviamente andiamo da un medico e in base al sintomo ci prescriverà la quantità giusta. Oppure, ho il muco, secrezioni, naso tappato. Che faccio? Beh, il classico rimedio della nonna, ovvero pentolino sul fornello con un cucchiaio di sale grosso o un cucchiaio di bicarbonato, oppure qualche goccia di olio essenziale che non sia menta o eucalipto. Utilizzate oli essenziali che hanno proprietà erboristiche, come ad esempio il ginepro, il timo, la lavanda, quelli che proprio sono considerati piante officinali e quelle hanno, diciamo, le proprietà proprio balsamiche, non dannose, che non bisseccano appunto la mucosa. Oppure, il classico aerosol va benissimo, metà per naso, metà per bocca, con una soluzione che si chiama aerobiotiche che potete trovare sia in farmacia che in erboristeria a base di semi di pompelmo. Voglio potenziare la voce, voglio migliorare appunto la mia prestazione vocale. Che cosa posso assumere? Allora, c'è una sostanza che non so se conoscete, nota fin dai tempi dell'antica Grecia, si chiama erisimo, è un estratto idroalcolico di una radice della pianta erisimo, lo potete trovare in erboristeria, essendo un idroalcolico che significa che dovete assumerlo necessariamente diluito nell'acqua, perché è principio attivo più alcol, quindi è un po' strong, quindi 20 gocce nell'acqua, vi fate il gargarismo e mandate giù. E questo ha un effetto diretto già sul tono, sullo squillo della mia voce. Un altro equivalente dell'erisimo è il ribes nero, sempre io consiglio sotto forma di tintura madre, stesso modalità di utilizzo dell'erisimo. Eccolo qua. Poi io ad esempio utilizzo anche la mirra come incenso, nei periodi più freddi dell'anno, brucio un po' di incenso di mirra nell'incensiere e si sente appunto questa fragrata che ha delle proprietà molto buone per la voce, anche antinfiammatorie. E a proposito di infiammazioni, quali antinfiammatori naturali potrei utilizzare se ho ad esempio il mal di gola? E quindi non riesco più a parlare perché ho mal di gola. Beh, sicuramente, primo fra tutti il propolis. Il propolis è prodotto dalle api nell'alveare, è quello che le api utilizzano per sterilizzare le celle dell'alveare. Il propoli ha una percentuale di olio essenziale in base al polline, all'essenza con cui è stato prodotto e alcol puro. C'è anche la versione senza alcol, quindi più consigliata anche per i bambini, però è molto, molto, molto forte, quindi con molta moderazione perché è un po' aggressivo. Poi abbiamo la curcuma, che è una spezia che si può mettere sia sulla pasta che sulla carne a piacere e anche quella ha un effetto antinfiammatorio. C'è un prodotto che si chiama Golden Milk, che si può realizzare mettendo curcuma, qualche grano di pepe nero che fa da catalizzatore per le proprietà della curcuma, il vostro latte vegetale preferito e un goccio di miele. E questa soluzione, questo composto, assunto durante il mattino, vi difenderà da tutte le malattie del raffreddamento invernale. Abbiamo anche un altro antinfiammatorio naturale che io utilizzo tantissimo, ottimo per la voce, lo zenzero. Si può trovare sia in forma candita con zucchero, il percentuale di zucchero, più al naturale che è ancora meglio, solo che ovviamente è molto piccante, quindi ha un sapore strong. Voglio defaticare. Tutte le volte che un cantante va in sala prove, quindi usa tantissimo lo strumento e che quindi mi dà quella sensazione di affaticamento. Durante la giornata ho parlato tantissimo, utilizzo come defaticante questa, che è l'arnica montana. L'arnica montana è nota soprattutto per la sua proprietà anticontusione, noi la utilizziamo soprattutto per curare il mal di schiena. Questa forma omeopatica granulare la possiamo trovare in farmacia e con cinque granulini da sciogliere sotto la lingua io vado a defaticare il mio strumento e a ripristinare la voce modale, ovvero la condizione vocale più simile al parlato. Voglio rafforzare le difese immunitarie? Beh, sicuramente un buon alimento è il miele, sano, biologico al 100%, però vi invito a fare molta attenzione alla provenienza e all'essenza, perché in base al fiore di cui stiamo parlando, il miele cambia completamente le sue proprietà. Faccio un esempio, il miele di tiglio, che è quello più giallo chiaro, è miele con il più basso contenuto glicemico, indicato anche per i diabetici. Il miele di castagno, che è quello più marrone scuro, è quello più calmante per il raffreddore e la tosse. Il miele di lavanda, che è quello un pochino più giallo granuloso, migliora la concentrazione, è un calmante e concilia il riposo notturno. Quindi andatevi a guardare le proprietà sia degli oli essenziali che del miele, perché in base al fiore cambiano. E per finire, io voglio presentarvi un altro alleato naturale, che è l'echinacea. Qui ho sia la versione integratore in forma pastiglia, sia la tintura madre, cioè non deve mai mancare. L'echinacea che cos'è? È un fiore, simile ad una margherita, ma di colore viola, che ha tantissime proprietà. Intanto ha un contenuto di vitamina C che è molto più alto rispetto ad un agrume. E se io avverto quelle sensazioni di indebolimento, pre-ammalamento, quasi febbrile, io con 30 gocce di tintura madre ammazzo tutto. È un grandissimo antinfiammatorio, calmante della febbre. Soprattutto io con questa qui trovo un grandissimo alleato di cura per l'inverno in generale e per gli affaticamenti. Quindi ragazzi, mi raccomando, il mio consiglio è sempre quello di affidarvi a strumenti che la natura ci mette a disposizione. Poi se il vostro sintomo dovesse persistere, dovete andare da un medico e il medico vi indicherà la diagnosi e quindi il percorso terapeutico da affrontare. E con questo io vi saluto ed è stato un piacere. Io sono Ruggero Ricci e un saluto a tutti i membri di Esibirsi SochCoop. Ciao! Ciao a tutti!